Connettività a banda ultra larga, internet ultra veloce, telefonia con chiamate illimitate, hotspot facile, videosorveglianza in sicurezza, tutta la velocità della rete, ovunque. Un nuovo modo di navigare in internet grazie alle più avanzate tecnologie radio con frequenze esclusive e dedicate. BB Bell, società leader in Piemonte in servizi di telecomunicazioni wireless, entra nel business della fibra ottica sulla città di Torino, grazie a un accordo con OpenFiber. BB Bell è il primo operatore wireless del Piemonte e uno dei migliori player a livello nazionale. Siamo concentrati a erogare il servizio di internet e telefonia a tutti i cittadini piemontesi e copriamo attualmente sette province della regione del Piemonte. Attualmente abbiamo chiuso un accordo con OpenFiber per erogare il servizio Chiara, che è il fiber to the home, cioè fibra a casa delle utenze, che ci permette di erogare questo servizio potenzialmente a 331.000 unità abitative. Questo è solo l'inizio perché il piano parte da Torino e si allarga alla prima cintura, quindi nel 2018-2019 ci saranno aperte paesi come Settimo, come Venaria, come Benasco, Nichelino, Moncalieri, tutta la prima cintura della provincia di Torino. Come si arrivate a questo risultato? Con tanto lavoro e sforzo di tutti, sia nostri che dei miei dipendenti. Senza i miei dipendenti non saremmo arrivati a questo punto. Adesso siamo arrivati a superare i 12.000 clienti, quest'anno faremo un fatturato che supera gli 8 milioni e mezzo e le prospettive per futuro sono nei prossimi tre anni di raddoppiare questo fatturato. Soddisfatti di questo risultato? Soddisfatti, mai rilassati perché nel campo di telecomunicazione chi si ferma è finito. Noi ci lanciamo sul servizio in fibra ottica, BVBell da tanti anni lavora nel campo della banda ultralarga in wireless. Adesso con l'accordo con Open Fiber ci allarghiamo al mercato della banda ultralarga su fibra ottica e quindi con Chiara, il nuovo servizio di BVBell, portiamo il servizio fino a un giga di velocità a tutte le famiglie e le imprese di Torino, oggi di Torino perché è la città che è cablata da Open Fiber in fibra ottica. Poco per volta ci estenderemo a tutte le città che Open Fiber cablerà sulla regione Piemonte. A livello pratico chi si abbona con Chiara riceverà il router a casa e sarà collegato direttamente alla fibra ottica con velocità fino a un giga. Per noi è un modo diverso di portare le telecomunicazioni, ci mettiamo in un mercato che in genere è stato riservato ai grandi player quindi a Voda, Fonte Elecom, Fastweb, gli operatori nazionali, ci inseriamo parlando di qualità del servizio, cioè vogliamo parlare più di qualità che di prezzo nelle telecomunicazioni, ovviamente avendo un'offerta in linea con il mercato, non puoi essere fuori mercato, però non concentrandoci solo a pubblicizzare sempre il prezzo più basso, ma anche qualità di servizio come l'assistenza, per esempio noi siamo l'unico operatore che non ha un call center, quando chiamano non c'è neanche un risponditore che dici 1x, dici 2x, ma risponde una persona in carne ed ossa che assiste direttamente il cliente e questo fa evitare perdite di tempo se si ha un'esigenza ci vuole qualcuno dall'altra parte che te la risolve, questa è la filosofia di BB Bell. Un futuro migliore per le prossime generazioni. BB Bell, liberi di navigare, più veloci, sempre e ovunque.